Inviati a giudizio per la morte di sei operai, tre dei responsabili dell'ex Tricom Galvanica PM di Tezze sul Brenta, tra loro l'ex sindaco Battistella. Tre rinvii a giudizio per omicidio plurimo colposo e lesioni aggravate e la svolta che attendevano i familiari degli ex operai della Tricom PM di Tezze sul Brenta, morti per gravi forme tumorali dopo molti anni di lavoro nell'azienda giudicata colpevole del max inquinamento da cromo esavalente nella falda acquifera. Il giudice Barbara Maria Trenti ha disposto il processo per l'ex titolare della Galvanica Paolo Zampierin, per l'ex legale rappresentante della Tricom Adriano Sgarbossa e per l'ex sindaco Rocco Battistella che all'interno dell'azienda ha avuto incarichi direttivi. Dovranno rispondere della morte di sei operai mentre è stata archiviata la posizione di Angelo Zampierin, così come la pratica relativa ad altri otto decessi sospetti. E' la vittoria del comitato che ha più volte lottato contro l'archiviazione del processo, con frequenti presidi davanti al tribunale di Bassano in diverse udienze. Che si sarebbe andati verso l'invio giudizio lo si era intuito un mese fa, quando ai familiari di Domenico Bonan, ex dipendente della Galvanica PM Tricom di Tezze sul Brenta, morto di tumore ai polmoni, vennero riconosciuti 800 mila euro di risarcimento per la privazione del legame affettivo con il familiare, condanna a carico dell'ex titolare Delica Paolo Zampierin e dell'ex legale rappresentante della Tricom Adriano Sgarbossa. Ora i tre imputati dovranno difendersi dalle pesanti accuse, ai loro legali e ai periti, il compito di dimostrare che nell'azienda erano rispettate tutte le misure di sicurezza, l'opposto di quanto sostengono i familiari delle vittime.